La storia più figa di tutti. Allora, aspetta, a questo punto... Allora, si parlava di storie personali, ma non per specularci, ma perché poi dietro un'occupazione ci sono anche delle vite vissute, no? La tua storia personale è quella? La mia storia personale è quella della mamma di due gemelle, di 15 mesi, con appunto una mamma precaria e un papà precario, con scadenza di contratti simultanea. Quindi il 31 dicembre, mamma e papà, in attesa di un rinnovo di contratto. La mamma occupa, il papà è un altro ente, non è un ente di buono, è un consorzio di bonifica, quindi è un ente parastatale. Siamo un po' più fiduciosi sul suo rinnovo, però insomma diciamo che sudori freddi dietro la schiena non mancano. Dal primo gennaio potenzialmente potremmo essere entrambi senza lavoro. Si può arrivare ad essere dei genitori lavoratori a scadenza? Evidentemente sì, perché ci sta succedendo. Poi ci è successa questa meravigliosa esperienza di essere diventati mamma e papà di gemelli, che comunque non è proprio una cosa che già va gestita. Le gemelle dove sono adesso? Le gemelle sono a casa della nonna, perché insomma gestire... Perché i veri ammortizzatori sociali sono i genitori dei genitori. Sì, le nonne nel nostro caso, abbiamo solo le nonne purtroppo, e le nonne si rimboccano le mani che ci aiutano, però insomma è tosta la cosa. Allora voglio cercare... dunque vediamo se lo vedo. Liborio? Allora, c'era un altro... io mi ricordavo... non erano due, sono tre gli uomini. Liborio? Tu c'eri già l'anno scorso e mi ricordo che hai avuto uno sfogo di rabbia ad un certo punto l'anno scorso impressionante. Ti faccio questa provocazione. Mario Monti due anni fa disse che noia il lavoro fisso a tempo indeterminato. Non è mai molto più bello cambiare. Il lavoro a tempo indeterminato è proprio una rottura di palle. Vorrei che Mario Monti vivesse la situazione che viviamo noi, l'incertezza giornaliera che ci porta a vivere in questa maniera senza poter programmare un futuro e vivere alla giornata. Non auguro a nessuno questa situazione.